Buongiorno a tutti, buongiorno a chi oggi si è svegliato con il sorriso e allora con il Salmo 33 invocate e pregate, benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Buongiorno a chi si è alzato con qualche pensiero particolare, con qualche sofferenza, con qualche obiettivo da percorrere e allora dite sempre con il Salmo 33 Guardate a Lui e sarete raggianti, i vostri volti non dovranno arrossire. Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce. Buongiorno a quei padri e a quelle madri che escono di casa per guadagnare il pane quotidiano. Buongiorno a quelle madri che mandano avanti le case. Buongiorno ai giovani, ai bambini, agli anziani. Buongiorno agli ammalati che si svegliano con la stessa battaglia di ieri, con la stessa lotta, con la stessa angoscia nel cuore. Buongiorno ai ministri di Dio, buongiorno ai consacrati, Buongiorno a tutti, che sia un giorno lieto e pieno di speranza, lieto, sereno e pieno della pace del Signore. E allora, con questi sentimenti, preghiamo e affidiamo tutto a Lui. Signore, sia fatta sempre e solo la Tua santa volontà, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome. Venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Accogliete la benedizione. Il Signore sia con voi. Vi benedica, Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. A tutti voi una buona giornata. Ricordiamoci nella preghiera alle 17.20 in diretta il Santo Rosario a Maria. Ciao.